delle aule di Montecitore ma anche del Senato, abbiamo visto quelle scenette che molte volte capitano quando qualcuno non è d'accordo, però alla fine si arrivò a queste unioni civili e allora salutiamo subito Monica Cirinà, senatrice del PD, insomma di questo provvedimento ovviamente conosce davvero tutto, insomma l'ha voluto, è stata però, se l'aspettava a proposito Cirinà, partiamo subito da questa battuta, cerchiamo un po' di entrare anche con ironia, all'inizio quando è stata presentata questa proposta, cioè ci credeva che sarebbe passata, nonostante quel muro di polemiche si ricorda, quanti parlamentari erano completamente in disaccordo? Francamente non ci credevo e soprattutto mi fece paura l'assegnazione come relatrice, io ero appena stata eletta, ero al primo mandato, ho pensato dentro di me, hanno assegnato questo provvedimento a me per farlo arenare, quindi dovrò dimostrare non solo le mie capacità ma dovrò tentare tutte le strade possibili, avevo molta paura francamente. Però insomma hai iniziato bene, hai iniziato con il botto Cirinà, cioè vanno fatti dei complimenti. Diciamo che dopo due anni siamo oltre 6.100 unioni civili celebrate, oltre 100 e più matrimoni all'estero trascritti, abbiamo 14.000 cittadini felici, liberi e felici e esistono per lo Stato, non sono più discriminati per la cosa più bella del mondo che è l'amore. Che è l'amore. Allora, senta Cirinà, tra pochissimo faremo vedere questi numeri, appena sarà pronta la nostra Monica Peruzzi, io però le faccio subito una domanda che non è assolutamente provocatoria ma di fatto la impone un po' la realtà. Movimento 5 Stelle, Lega, stanno mettendo a punto un programma, c'è un po' di fibrillazione secondo lei, c'è la paura che in qualche maniera possa essere messa a mano anche questo provvedimento? Io penso che c'è da avere paura moltissimo su tutti i provvedimenti che hanno a che fare con i diritti, in particolare i diritti civili. Ricordo che nel Lega, nel 5 Stelle, nei 5 anni in cui io sono stata senatrice, quindi nella diciassettesima legislatura, sotto la guida del governo sia di Matteo Renzi che di Paolo Gentiloni, nessuno di questi due partiti ha votato a favore di leggi sui diritti, fatto salvo il voto finale di Movimento 5 Stelle sul Biotestamento. Quindi c'è da avere paura, stiamo andando verso un governo di destra, non di centrodestra, di destra, perché Movimento 5 Stelle da quando non ha votato la legge sulle unioni civili e tutte le altre si è caratterizzato come un movimento di destra. Stiamo andando verso la Polonia, verso l'Ungheria, stiamo andando fuori dall'Europa, almeno per quello che riguarda la tutela dei diritti. Io mi auguro che la legge non venga toccata, ricordo a chi vuole attaccare la legge, che la legge è ancorata agli articoli 2 e 3 della Costituzione e che nasce da una sentenza della Corte Costituzionale che ci chiedeva di provvedere alla vita familiare di coppie di persone dello stesso sesso. Io sarò in Commissione Giustizia e sarò l'argine più alto e più forte contro il depauperamento di questa legge. I diritti acquisiti non si toccano, quindi aspetto con le armi alzate chi non ci voglia provare. Ebbè è stata combattiva per tutto quel periodo, io me la ricordo, ovviamente ci ridà e continuerà sicuramente a dare battaglia. Allora, siamo pronti con la nostra Monica Peruzzi e andiamo a fare il punto non soltanto sul provvedimento, ma anche su qual è la platea di riferimento che in questi anni è aumentata molto. Monica a te. Due anni fa la legge Cirinna, una legge che per molti, soprattutto nel mondo gay, è una legge di portata storica straordinaria, soprattutto sul fronte patrimoniale e assistenziale. Andiamo insieme a vedere alcune grafiche che abbiamo preparato. Intanto le date che riguardano questa legge, approvata l'11 maggio del 2016, promulgata poi il 20 maggio, sempre dello stesso anno, ed è in vigore dal 5 giugno 2016. Alcune degli aspetti, dei diritti che vengono previsti, tra i quali i diritti e i doveri reciproci che di fatto accomunano le unioni civili a quello che è il matrimonio. Il regime patrimoniale, ovvero la possibilità di avere la pensione di reversibilità, ma anche di avere quel 50% dell'eredità in caso di morte del compagno. Poi l'estensione dei diritti matrimoniali, lo scioglimento e il diritto di successione. C'è anche la possibilità di assistere la persona malata, che prima per esempio non c'era. Non rientrano tanti altri aspetti, come per esempio la stepchild adoption e l'adozione, e questo è un nodo critico di questa legge. Quanti sono i numeri della legge? 6.073, le unioni al 31 dicembre 2017, numeri che sono stati ancora aggiornati, in particolare in questi ultimi mesi, guardate, 149% in più rispetto soltanto all'anno precedente, all'anno in cui è entrata in vigore questa legge. Allora andiamo insieme a vedere quali sono le regioni in cui si sono celebrate il maggior numero di unioni civili, allora la Lombardia si aggiudica il primato con 1.514 unioni civili, poi si va sul Lazio e sull'Emilia Romagna. Se però andiamo a vedere le città con maggior numero di unioni civili, ecco qua, in realtà spicca Roma con 845 unioni civili, Milano 799 e Torino 378. Allora, grazie alla nostra Monica. Tra l'altro, senatrice Cirinà, Monica faceva riferimento alla stepchild adoption che in effetti non fa parte di questo provvedimento ma di fatto non è servito perché abbiamo visto quanto il dibattito anche della magistratura, anche quante sentenze in qualche maniera stanno comunque ancorando un po' di punti ancora di più o no? Sicuramente la giurisprudenza va avanti e anche il diritto amministrativo perché avete visto le mosse ultime dei sindaci. Noi viviamo in un sistema costituzionale con tre poteri. Quando il potere legislativo, quindi il Parlamento, non dà diritti ai cittadini, i cittadini si rivolgono all'altro potere costituzionale che è appunto quello della magistratura e attraverso sentenze ottengono quei diritti che la politica gli ha negato. E questa è un po' una sconfitta per la politica. Questa è un po' una sconfitta per la politica o no? Beh, questo è il frutto del tradizionale. Dovremmo essere la politica a dare ovviamente risposta a certi tipi di esigenze. Lei sa bene che io ho lavorato per due anni in Commissione Giustizia del Senato chiudendo un accordo strettissimo con Movimento 5 Stelle sul voto in particolare del famoso articolo 5, adozione coparentale del figlio del partner. È stato il tradimento di Movimento 5 Stelle il giorno in cui la legge è arrivata in aula a costringerci allo stralcio della cosiddetta stepchild adoption. Quindi è evidente che la politica ha deciso di non decidere perché non aveva più i numeri. Meno male che ci sono i magistrati che danno sentenze di adozione, ma ancora di più, meno male che tanti sindaci coraggiosi, penso a Merola, penso a Bianco a Catania, penso all'Appendino a Torino, iscrivono adesso finalmente i certificati di nascita dei nostri bambini italiani che nascono in particolare in coppie di persone dello stesso senso. E abbiamo visto... Comunque i diritti vanno avanti attraverso altri poteri. Vanno avanti, corrono, anche i numeri che ci ha fatto vedere Monica in effetti confermano. Ma è giusto non fermarsi. È giusto. Davanti all'inconsistenza della politica, quando la politica non ha i numeri e si blocca, è giusto che la lotta per i diritti e per il riconoscimento non si fermi. Ecco, a proposito di riconoscimento, vogliamo andare a conoscere Andrea Rubera, attivista gay, ma soprattutto è stato tra le prime coppie gay cui matrimonio è stato proprio trascritto in Campidoglio, tra l'altro dal sindaco Marino. Hanno tre figli, tra l'altro. Andrea, eccoci qua. Spero che tu mi senta. Ti vedo un po' con un segnale frizzato, però speriamo un po'. La vigia mi dà qualche conferma? Andrea c'è? Andrea ha qualche problema? Allora, non sentiamo Andrea. Quindi cerchiamo di prendere ovviamente il collegamento. Senta Cirina, intanto ne faccio un'altra domanda. A dire la verità l'avrei voluta fare ovviamente anche a un sociologo, uno psicologo, perché tra i numeri ieri che ci interrogavamo con Monica, abbiamo notato, ha visto che le regioni del nord sono un po', diciamo, rispetto a quelle del sud, molto più avanti come trascrizione. Addirittura ci sono zone della Calabria dove non ci sono state queste... dove questa legge di fatto è come se non esistesse. Motivazioni culturali? Sicuramente motivazioni culturali, sicuramente motivazioni sociali. C'è anche da dire che i numeri vanno guardati con l'occhio dello statistico e quindi vanno rapportati alla popolazione. La Lombardia è la regione più popolosa che noi abbiamo, quindi è evidente che i numeri vanno tarati anche sulla popolazione. Resta quello che io continuo a dire sempre. Avete fatto un bellissimo cartello, la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio. Quando le leggi arrivano alla Gazzetta Ufficiale finiscono la loro funzione. La funzione di renderle vive e attive nella società comincia nella cultura, nell'educazione, nelle scuole, nell'arte, nei film. Quando la lotta per il riconoscimento diventa una meravigliosa trasmissione di libertà e di giustizia attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili, le persone capiscono che ogni differenza e ogni appartenenza ad una diversità può essere un valore e quel valore fa sì che si radichi nella società. Quindi c'è bisogno di cultura e oggi voi state facendo comunque già una cosa molto importante. Far passare nelle case della gente la meravigliosa normalità di un'unione civile che è come un matrimonio con la differenza che ci sono due mariti e due mogli invece che un marito e una moglie. Senta Cirinna, siamo alla vigilia della festa della mamma tra l'altro. Abbiamo visto le polemiche che ci sono state anche per quell'asilo di Roma che ha chiesto, cui è stato chiesto di cancellare la festa della mamma, la festa della famiglia. Allora in tanti ci dicono, ci chiedono, anche la festa del papà, in tanti ci dicono ma insomma la famiglia tradizionale è effettivamente a rischio, viene minacciata da questi diritti che invece vengono riconosciuti anche ad altri con i tribunali anche che di fatto, anzi le anagrafi che iscrivono i bambini di figli di genitori dello stesso sesso. Siamo effettivamente a rischio, sono a rischio le famiglie tradizionali? Io sono una famiglia tradizionale, sono una donna eterosessuale sposata, ho sposato un uomo con quattro figli che sono cresciuti con me e con le loro mamme. Quindi immaginatevi i figli di mio marito che hanno comunque tre figure femminili materne e che si riuniscono regolarmente a Pasqua e a Natale come accade a casa nostra. Io penso che i bambini che hanno due mamme e due papà hanno cognizione piena di che cos'è la loro famiglia. Io penso che è genitore chi ti cresce, chi ti ama e chi ti protegge. Ma allora il prossimo passo deve essere quello delle adozioni, Cirinna, perché poi le altre polemiche sono per esempio sulla maternità surrogata, sul fatto che sia un business. Allora se si concedesse questo diritto anche alle coppie omosessuali, anche ai genitori single, non si potrebbero aiutare anche tanti bambini? Io sono certa che quello che lei dice sia la strada giusta. Sicuramente l'adozione aperta, singola, coppie di conviventi. Pensate a me, me e mio marito, prima di sposarci, non avremmo potuto adottare ma abbiamo tranquillamente cresciuto i suoi figli. Le coppie di fatto di conviventi regolate dalla mia legge non sono ancora ammesse all'adozione. La vecchia legge dell'83 prevede che possano adottare solo eterosessuali sposati da almeno tre anni. Quindi la riforma delle adozioni va fatta al 100%. Però dobbiamo anche passare ad un altro ragionamento che è quello del riconoscimento della genitorialità alla nascita. Se la gestazione per altri è considerata, vietata ancora in Italia, è considerata un metodo per combattere la sterilità e avete letto ieri su un grande giornale italiano che il 95% delle coppie che si rivolgono a questa gestazione per altri sono eterosessuali sterili. Allora forse è il caso che l'Italia ragioni e capisca che anche questo metodo per diventare genitori va in qualche modo regolato per legge. Escludo che lo faccia un governo di destra come quello verso il quale stiamo andando. Però dobbiamo sapere che quei bambini sono cittadini italiani e hanno bisogno comunque di tutela. Non sono dei bambini che vanno puniti per il modo in cui sono nati. Attenzione, sono bambini italiani e devono essere tutelati perché lo dice la nostra Costituzione, il diritto del minore è prevalente. Assolutamente. Monica Cirinà, io la ringrazio ovviamente, in bocca al lupo per quelle che saranno le vostre prossime sfide che ce ne sono tante all'orizzonte, anche politicamente ha sempre più bisogno di risposte. Grazie mille per essere stata con noi. Purtroppo Andrea Rubera è caduto, non è caduto, non si è fatto male. È solo il segnale che è caduto, magari lo recupereremo tanto di diritti civili parliamo stesso. Parliamo di bambini Milo, parliamo di altri.